Tutto facile, quando le cose vanno a gonfie vele. Promozione in vista. Ma se il vento comincia a girare... Perché non sei a lavoro, George? Oh, beh, io sono stato licenziato. C'è sempre un approdo sicuro dove fermarsi. Elysium, distributore quotidiano di sogni. Per ripartire, nudi e felici. Questa sera alle 21, su 27.